ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video una nuova prova di power station power station piccola molto portatile marchio all power all power fa dei bei prodotti inutile negarlo è uno dei marchi secondo me migliori in questo settore non il migliore probabilmente infatti non sono rivenditore ma valido in altre occasioni vi ho detto che stiamo provando in questo periodo un sacco di power station qualcuna migliore qualcuna peggiore io vi porto la mia esperienza vi faccio acquisire informazioni che possono servirvi nella scelta poi se avete bisogno di roba più grossa fare impianti a casa eccetera lo sapete potete contattarmi sono rivenditore installatore di un altro marchio troviamo la soluzione al migliore questa volta però faccio una prova diversa perché questa power station costa circa 300 euro quindi prezzo assolutamente nella media i soliti 299 watt ora di accumulo questa alle life po 4 ottima tecnologia vedremo che è una scarica molto costante 600 watt di potenza continua qualcosa di interessante perché la ricarica wireless ha un ingresso dalla porta che può essere per il solare o comunque per caricarla in auto che arriva fino a 300 watt mi sembra che in totale fa un massimo di 400 watt di ricarica massima delle caratteristiche normali ma comunque un prodotto interessante prova diversa dal solito vi dicevo perché adesso facciamo lo spacchettamento la guardiamo tutta quanta e poi siccome capitava la prova durante agosto ho fatto che portarmela in vacanza ma questo ve lo spiego dopo adesso la guardiamo l'analizziamo proviamo accendere la prendiamo dimestichezza con l'app perché ha anche bluetooth e andiamo avanti col video scatola all power dove già sul cartone vediamo l'anteprima del prodotto lo apriamo dentro troviamo un sacchetto dei documenti togliamo le protezioni prendiamo dalla maniglia la power station e già dalla maniglia vediamo la buona fattura e la ricarica wireless il pad da 15 watt qui abbiamo un lato dove c'è questa finitura verde di queste plastiche per una griglia da reazione sul lato posteriore nulla sul lato sinistro abbiamo un'altra griglia per la reazione intravede una ventola e qua abbiamo lo sportello alziamo lo sportello e abbiamo l'ingresso per entrare direttamente col 230 volte quindi non alimentatore esterno interruttore di emergenza che scatta in caso di protezione del sistema della corrente ac e ingresso per il solare e tutto il resto passiamo alla parte anteriore qui un design già visto dove abbiamo l'uscita è 12 volte quindi due con jack da 5 mm e mezzo 12 volte 10 ampere presa accendisieri luce pulsante d'accensione due uscite usb c da 100 watt e due uscite usb a da 18 watt pulsante per la parte dc pulsante per la parte a c sulla parte c abbiamo due asciugo sportello che devo dire si chiude molto bene display sotto abbiamo il resoconto delle caratteristiche quindi del solare accetta da 12 a 60 volte massimo 12 ampere massimo 300 watt da ci carica a 240 volt due ampere 400 watt al massimo può caricare sia a 12 che a 24 in auto come uscite abbiamo 600 watt al massimo con picco di 1200 sul 230 le uscite che abbiamo già visto in dc e null'altro di importante la parcheggiamo un secondo vediamo cosa abbiamo dentro la parte della manualistica abbiamo la garanzia il manuale in inglese cinese tedesco di nuovo cinese magari giapponese ti pareva se avevamo l'italiano non abbiamo bisogno di grosse istruzioni per queste macchine vediamo invece cosa c'è nella sacchetta degli accessori sacchetta marchiata come di consueto all power ci sono un sacco di fili della colla a caldo che c'era per l'imballo allora classico cavo spin asciugo per l'ingresso di rete e classico cavo mc4 xt 60 il cavo devo dire che è di tipo siliconico l'ho sentito già molto morbido abbastanza spesso non è di quelli troppo fini ed è lungo circa un metro e mezzo quindi come facciamo a caricarla dall'auto ci va un adattatore 12 volt mc4 non compreso mettiamo da parte i cavi manuali iniziamo a prendere confidenza con la macchina che non si accende in nessun modo speriamo sia solamente scarica con la ricarica ha dato segni di vita è partito display sta caricando a 100 watt ma è allo 0 per cento ora sono le 19 21 la lascio caricare intanto scarico l'apple power e vedo se riesco a connettermi per verificare se c'è la possibilità di cambiare i parametri di ricarica ok mi trova la nostra apr 600 2.0 mi connetto mi vede la macchina connessa sta caricando a 123 watt un per cento sia da qui che da app non mi dà la possibilità di spegnere la parte ac proviamo ad andare nelle impostazioni work mode abbiamo standard mode mute o fast adesso sta caricando 143 watt proviamo a mettere fast e torniamo indietro da ricarica è passata a 166 watt proviamo a cambiare in mut passa a 100 watt se la rimettiamo in standard rimane sui 145 io la rimetterei in fast non cambia molto adesso sta tirando 165 watt più di così non carica lasciamola andare e torniamo quando sarà tutta carica ok cosa ho deciso di fare con questa polestation di portarmela in vacanza in camper perché perché io ho un problema perché il frigorifero del camper se non lo sapete almeno il mio che tra l'altro è vecchissimo funziona in tre modi o a gas o a 12 o a 220 io il gas dal camper l'ho praticamente tolto a 12 lavora proprio solo per mantenimento ma fa molta fatica rende bene a 220 volt cosa succede quando parto per le vacanze se voglio partire con della roba da portarmi dietro da mangiare in frigo o in freezer non arrivo mai a destinazione con la roba ancora integra e allora ho deciso questa volta di caricarmela nel camper perché so che il mio frigo consuma sui 110 watt sui 220 quindi me la porto carica mentre viaggio la ricarico anche da alternatore quindi dal 12 del camper sapendo già che non riuscirò a compensare quello che carico con quello che consumo ma facendo un viaggio che non è troppo lungo perché vado solo fino in toscana forse ce la faccio ad arrivare allora ho fatto un impiantino mi sono collegato alla batteria con due cavi da 4 mm li ho portati in abitacolo ho messo 2 mc4 perché in dotazione abbiamo il cavo mc4 ingresso xt 60 si chiama non ho usato il cavo accendisigari perché scaldava veramente tanto non mi fidavo per nulla ho preferito collegarmi direttamente alla batteria con un cavo che vada bene ok quindi mi sono fatto questo mini impiantino con i fusibili e la linea da 4 mm per la power station che trovo a posto sul sedile adesso la sto caricando da rete perché sono ancora a casa ma all'occorrenza mi sono portato dentro i due mc4 aggiuntati col cavo originale xt 60 per caricarla mentre viaggio adesso che parto inizio poi attaccare il frigo vediamo come va e vediamo quanto carica se riesco a stare dietro un bel centone di gasolio si parte sapevo già che non sarebbe riuscita a star dietro il consumo ma man mano che passavano le ore vedevo che forse potevo farcela ad arrivare e vediamo che cosa è successo a destinazione bene sono le 10 45 siamo al 5 per cento e si è appena staccata l'uscita vediamo se me la fa riattivare no a 5 per cento non me la fa più attivare però è stato acceso fino adesso e calcolate che sarà già un quarto d'ora 20 minuti che ero a fare l'accettazione reception quando sono arrivato era ancora acceso quindi ce l'ha fatta al pelo a reggere queste ore in vacanza che avevo tempo per fare esperimenti ho provato invece a fare lo stesso collegamento quindi con questo consumo di 100 roti watt del frigo con la power station carica e a portarla fino alla fine per vedere con un consumo del genere quanta autonomia abbiamo senza avere nessuna fonte di ricarica bene via col test ora 8 56 100 per cento attivo l'uscita c parte il carico del frigo vediamo quanto tempo riesce a tenerlo acceso allora sono le 10 59 sono passate praticamente due ore vedete che siamo costanti a 116 siamo all'otto per cento vi ricordo che al 5 si spegne quindi abbiamo circa un paio d'ore di autonomia con un consumo del genere nelle pubblicità sui siti eccetera vedete sempre queste immagini questi video di gente che utilizza queste power station dispersa nella natura per farci mille cose e allora facciamo anche noi quindi in occasione di una sosta in libera dentro una pineta magari può tornare utile per purtroppo fare il lavoro che mi sono portato dietro anche in vacanza chiaramente col sottofondo musicale delle cicale in piena natura possiamo realizzare un setup del genere un ufficio portatile diciamo dove possiamo sfruttare le porte tipo a per fare qualsiasi altra cosa e dove con un consumo di 30 watt perché stiamo alimentando un computer in questo caso è solo il caricabatteria di un orologio abbiamo un uscita di 20 30 watt con diverse ore di autonomia senza problemi però mentre l'aereo mercato c'è stata anche la finale di sinner io seguo abbastanza il tennis e cosa fai non la guardi in un modo che ne valga la pena un portatile 5 4 proiettore di otto power station 4 ore circa di autonomia dovrebbero bastare con tutta sta roba per guardare una finale come si deve portata con me in vacanza ho fatto un sacco di prove man mano che mi capitava di alimentare qualcosa chiaramente nessun problema sulle porte in dc ho usato molto la ricarica wireless per il telefono l'ho usata veramente tanto ho voluto fare un reale utilizzo di un dispositivo nelle condizioni in cui si può trovare una persona quando la compra però sono anche incappato in situazioni dove non ce l'ha fatta fare qualcosa che speravo riuscisse a fare avrei voluto provare anche un compressore a 12 volt con la spina accendisigari ma quando tento di farlo partire non ce la fa fare lo spunto e vedete che dopo un po va in errore 04 bisogna poi spegnere la power station e riavviarla un compressore portatile da 108 watt sul 12 volt ma evidentemente non ce la fa a fare lo spunto chiaramente l'ho provato con la presa accendisigari nel camper e funziona benissimo quindi in questo ambito purtroppo mi ha deluso chiuso il capitolo vacanza l'ho riportata in sede ho fatto i soliti test del caso tra cui quelli di tenuta in potenza diciamo un po più stressanti facciamo la solita prova elettrodomestici quindi accendiamo la power station accendiamo la parte ac parte un secondo le ventole poi si fermano zero consumo facciamo subito la prova dei 640 630 watt del mio forno accendendo solo la parte sotto ok forno che parte siamo a 616 watt senza problemi mi dà in questo momento un'autonomia di 22 minuti proviamo magari ad accendere solo sopra vedete che scende un secondo il consumo poi sale leggermente meno quindi la resistenza alta è più bassa di quella di sotto se vogliamo provare a mandarla in blocco gli erediamo tutte e due vedete che va in errore 7 superamento potenza mi spegne la parte ac basta togliere il carico si ripristina subito senza problemi mi rimane un errore 7 memorizzato quindi spegniamo la power station la riaccendiamo riaccendiamo la parte ac fa di nuovo il suo check delle ventole e torna tutto a funzionare regolarmente lui torna a ridarmi in uscita i miei 620 watt costanti senza problemi quindi fa quello che può fare fin dove lo può fare poi va in errore e si blocca la prova del microonde che è sempre quella un po tragica mettiamolo magari a 160 watt un minutino proviamo a partire vedete che parte con un consumo di 130 watt poi purtroppo va in errore perché un microonde come questo ho verificato è quando parte fa uno spunto di circa un kilowatt e due dipende variabile in questo caso la power station non ce la fa ad alimentare un forno a microonde che ha un grosso spunto quando parte la fase del riscaldamento con questo che è molto vecchio e che consuma tanto non è da escludere che con uno più moderno un po più efficiente si riesca comunque ad alimentare perché quello spunto istantaneo che lei riesce a supportare magari è sufficiente ho provato poi mentre facevo test in casa a collegare un deumidificatore vedete che in questo momento sta tirando 200 rotti watt deumidificatore ariston con una potenza di 410 watt anche in modalità fase fase ad esempio funziona senza problemi visto che è una power station collegata direttamente al 230 volte ho fatto la solita prova per capire se esce a fase 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 se quando è collegata esce a fase neutro vedere un attimo come si comporta ok facciamo la prova della fase in uscita con e senza alimentazione esterna attacchiamo la parte a c verifichiamo se abbiamo la fase su entrambi i fili quindi fase sul neutro e fase sulla fase proviamo ad attaccare la ricarica esterna quindi collegarla al 220 passa in ricarica diventa un ups mi segnala che c'è la rete e vedete che abbiamo una vera fase da 220 perché si illumina anche molto di più cerca fase sul filo di fase mentre sul neutro nulla chiaramente se girate la spina al contrario avremo la fase sul neutro e nulla sul filo di fase quindi controllate il verso della spina mi pare di aver fatto più o meno tutti i test che facciamo di solito no manca il test della luce siamo in un garage completamente buio c'è solo una minima luce di una zanzariera vediamo che luce riesce a fare non ne fa tantissima ve lo dico già abbiamo l'opzione di accensione singola quindi vedete che fa un fascio direzionale è fatta proprio apposta per essere portata in mano e far luce dove camminiamo tenendo premuto va in modalità segnalazione di emergenza quindi fa questo tipo di lampeggio che è la segnalazione universale di emergenza bene siamo giunti a fine video ho cercato di darvi un'esperienza d'uso reale per capire queste piccole power station questa come altre perché poi che sia questa che sia la bluetti che sia altri prodotti cinesi che abbiamo già provato riproveremo più o meno come valori siamo lì quindi capite cosa potete realmente farci qualità più bassa qualità più alta dipende dal prodotto questo è un prodotto di ottima qualità secondo me la metto la metto lì lì con le b3a e vediamo se ho tempo di fare un confronto una cosa importante state connessi perché sto sperimentando l'utilizzo di un innalzatore di tensione ossia un dispositivo che alza da 10 a 48 la tensione l'ho provato a montare a collegare funziona meglio perché la power station in quel caso non carica più a 100 watt ma arrivando il 48 volte trasformato dal 12 carica più di 300 ce l'avrei fatta ma proprio alla grande a fare il viaggio senza stare con l'ansia di rimanere senza corrente ma farò un video dedicato questa power station va bene funziona bene è fatta bene ripeto di qualità alta prezzo assolutamente nella media quindi se vi interessa comprarla vi lascio in descrizione tutti i link utili e questo è quanto mi raccomando iscrivetevi al canale che non costa niente mi aiutate a farlo crescere così proveremo un sacco di prodotti interessanti un bel like ci vediamo il prossimo video la prossima diretta o se passate da torino ci prendiamo un caffè in negozio insieme ciao da massi dattoli grazie